sapete cosa odio davvero game of thrones io odio game of thrones l'odio 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 per due motivi principali il primo è perché in italia esce lunedì ma lunedì esce silicon valley che è molto meglio ma soprattutto l'odio e questo è un nino odia dentro un nino odio io odio i nani i nani sono persone che sono venute fuori non complete c'è gli mancava un pezzo ma sono usciti prima evidente perché c'è solo nani sono piccoli e poi sta sul cazzo perché hanno c'è si vede che si è prima formato la testa che è giusto poi il corpo non ha fatto il tempo a completarsi e sono usciti prima quindi io li odio mi danno un fastidio e quindi siccome c'è quel cazzo di nano di merda mongoloide perché se sei nano sei mongoloide io mi rifiuto di guardare game of thrones cazzo e non dovete guardarlo neanche voi e poi diciamoci la verità che storia è è il signore degli anelli dove però i personaggi scopano e quindi allora guardavo il signore degli anelli e poi finito mi guardavo un porno è la stessa cosa e comunque vi do l'anteprima perché nell'ultima puntata voi non lo sapete ma il nano di merda deficiente scopperà con uno dei draghi ma non vi dico quale quindi io odio game of thrones perché odio i nani di merda perché non li uccidi eh perché non so non so non lo so in realtà io non lo odio perché non lo guardo quindi non so perché odio i nani di merda grazie 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 a tutti